Il rio Forge è tornato a scorrere con il suo caratteristico ruscellamento invernale e la foce davanti alla spiaggia è di nuovo piena d'acqua. Le piogge dei giorni scorsi hanno fatto rinascere questo torrente che dopo mesi di penuria d'acqua ha ripreso il suo caratteristico aspetto. Anche gli altri corsi d'acqua rimasti a secco anche in pieno inverno sono tornati a scorrere. In base ai dati del Sias, il Servizio Informativo Agro Meteorologico Siciliano, nel mese di febbraio in Sicilia si sono registrate precipitazioni nelle norme il che ha dato sollievo temporaneo per seminativi e vegetazione spontanea. Ma resta pesante il deficit di lungo periodo. Tant'è che proprio ieri la giunta regionale su proposta del presidente della regione Renato Schifani ha approvato lo stato di crisi di emergenza nel settore idrico potabile entro il 31 dicembre per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Contestualmente ha nominato il segretario generale dell'autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro, commissario delegato con l'incarico di individuare e attuare tutte le misure necessarie per superare la fase più critica. Dunque le precipitazioni delle scorse settimane non sono riuscite a scongiurare il rischio siccità. La media regionale delle piogge rilevate dalla rete Sias, pari a circa 68 mm, si colloca praticamente alla pari rispetto alla norma mensile che per il periodo 2002-2023 è stata pari a 69 mm. Dai dati emergono significative differenze tra le diverse aree regionali secondo una classica distribuzione che vede i maggiori accumuli sui rilievi nord-orientali ma che presenta anche l'anomalia registrata il giorno 28 gennaio nel settore sud-orientale della provincia di Trapani, nella zona del Belice e soprattutto nel territorio di Casselvetrano, dove una linea temporalesca ha prodotto locali nubifragi e grandine che localmente hanno portato l'accumulo mensile sopra i 100 mm. Il numero medio di giorni piovosi è stato prossimo a 7 rispetto a un valore normale pari a 8, variabile tra gli 11 giorni piovosi rilevati da stazioni montane del Messinese e tra i giorni di alcuni siti del settore sud-orientale come Catania, Noto e Ispica. Sempre in base alle rilevazioni del Sias, hanno prevalso piogge di intensità limitata permettendo ai suoli di assorbire la maggior parte della pioggia caduta. Per l'agricoltura, il mese di febbraio ha consentito un notevole sollievo per le colture arboree e per quei seminativi che non avevano subito un danno eccessivo dalla siccità precedente, mentre per altri settori, quello ad esempio di Pascoli e Foraggere, i benefici avranno bisogno di più tempo e di una continuazione con decorso positivo della stagione per potersi concretizzare. Resta infatti un deficit medio regionale molto elevato dell'ordine di circa 250 mm che da settembre mancano all'appello che attende di essere colmato per poter ricostruire anche le riserve idriche.